Salve allo gente di Gabby e benvenuti su Paper Io! Esatto, sono qua io a farvi capire che questa è la mia nuova droga! Questo gioco, non so cos'ha, ma mi viene incollato allo schermo sempre! Alla sera, quando sono stanco, quando ho niente da fare, click it play e inizi a sclerare! Mi sono scelto la papera gialla! In cosa consiste questo gioco? Devi fare disegnini con le papere. Avete presente Tron che con la motocicletta, se andavi nella loro linea, si distruggeva la moto? Qui è un po' la stessa cosa! Noi dobbiamo creare una zona del nostro territorio sempre più grande, senza che la nostra linea venga spezzata da un altro! Semplice direte voi, ma non è così! Quella in basso a destra è la mappa per i nuovi arrivati. Qua sto ampliando la mia zona. Ecco, qualcuno sta venendo per uccidermi, ora io ucciderò lui! Non sai cosa ti sta per capitare, stupida arancia? BAM! Proprio così, ragazzi! Distrutto, mangiato! Ma quello che tutti noi vogliamo in questo gioco, l'obiettivo primario, the primary objective, è quello di raggiungere il 100%. Ho inventato una tecnica, ragazzi. La mia tecnica è fare tutto il giro della mappa e arrivare a mangiare tutto. Però vedete, loro lo sanno, devo stare molto subdolo con questa tecnica. Devo trollare pian pianino tutti. Quindi per ora ce ne andiamo da questa zona e anzi, ingrandiamoci. Ok, lo vedo. Quello giallo ha capito qualcosa. La gente sta capendo... Oh! Mrs. America! L'americano! Vuole mangiarmi tutto! Vuole mangiarmi tutto! BAM! È entrato nel mio territorio! La paperegella è la tortura! Questo gioco ti dà un'emozione, ti dà un'ansia che voi non avete idea. Comunque tranquilli, il nostro piano è di chiudere l'intero cerchio. Un po' alla volta. Tranquilli, ragazzi, ma non dobbiamo ripeterci perché paganini, paparini, paperini non si ripete. Oh, oh, oh! C'è un animatronico lì! Dobbiamo ucciderlo, ragazzi. Se vogliamo è l'unica. Siamo molto attenti... Non bastava su FNAF! Anche qui! Però sapete cosa? Non siamo andati poi così male per la nostra prima volta. Ora siamo proprio al centro mappa! Questo è bruttissimo! Ora voglio provare a fare una cosa pazza. Mi allontano e creo praticamente una zona gigante. Ecco, voglio fare una zona gigante dove praticamente prenderò metà mappa, se riesco. Se riesco a prendere metà mappa, ragazzi... Non so, fatemi una statua. Intanto facciamo così. Spero che ne... Però ce ne sono troppi. Non devo allargare troppo le mie vedute perché, ragazzi... Questi mi trolleranno 100%. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa. No! Nope! È arrivato il fantasmino e ha detto... You shall not pass! Oh no! Oh no! Questo si accorge! Questo si accorge... Ok, non si è accorto. Ok, stiamo attenti. La mia tattica... Così stupida... Allora, devo uccidere. Devo uccidere i testimoni. Purtroppo, devo ucciderli. Ucciso! Doppia! Ok, è il nostro momento, ragazzi. Ora devo fare il giro dell'intera mappa. Nessuno deve accorgersi. Non accorgerti. Nessuno si deve accorgere. Ragazzi, se riesco a chiudere l'intero cerchio... Conquisterò l'intera mappa. Devo arrivare. Ti prego, ti prego, ti prego. Porca tratta! Ma proprio qui, in quel momento! No! Basta, no! Non accorgerti. Perché vi accorgete tutti? Vai, vai! Ci riprovo! Bam! Thanos morto! Thanos snappy! Sparito. Guarda, ora freghiamo questo. Oh no! Oh no! Oh no! Ah! Mi sono suicidato! Thanos! Thanos! No! Puppazzo! Non mi lasciano! Perché ti accorgi sempre? Perché si accorgono sempre? Perché sono sempre verso il bordo? Il primo ignaro di tutto. Dai, non state ai bordi. Non state ai bordi. Mamma! Ok, ok. Se continuiamo così possiamo batterli tutti. Mamma mia, sono emozionato. Siamo quasi in metà mappa. Ma è così, signora pappera! Che è stato? Un'ultima volta. Riprovo l'ultimissima volta. Questa è l'ultima delle ultime delle ultime. Riusciremo a battere il record? Riusciremo ad andare avanti fino a dararli tutti. Finché nessuno si accorge di quello che voglio fare. Possiamo farlo? Tranquillamente. No, non possiamo! Tutti capiscono questa tattica! E allora io li pregherò. Intanto dobbiamo cambiare modalità. Non dobbiamo farla classica. Dobbiamo farla small map! Mappa più piccola. Oh, con la small map è già più fattibile, ragazzi. Se abbiamo fatto metà della big map, con la small map possiamo tranquillamente fare questa tattica. Dai, ragazzi. Small map. Small map uguale easy. Dai, 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 dai. Tu non mi hai visto, 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 tu non mi hai visto. Dai, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Non mangiatemi. Ragazzi, questo è un record. Ragazzi, siamo quasi arrivati. No! Ero quasi arrivato! Mancava pochissimo! Voglio ancora riprovarci! È una droga! Devo riuscire a mangiarli tutto! Perché se riesco a chiudere il cerchio, io mi mangerò tutti! Voi non l'avete capito? Tutti periranno! Oh! Oh, no, no, ti prego, no! Quello si è accorto, vero? No! Ah! Va bene, ragazzi. Possiamo comunque fare questa tattica, ma la farò in una maniera più tranquilla. Ovvero mi creerò tante zone. In modo che non possano più distruggermi la mia singola linea. Ma creerò tantissime piccole zone che così, in questo modo, sarò al sicuro. Se farò la tattica. Guardalo, guardalo questo qua, questo pezzente. Come si crede al sicuro. Bam! Distrutto subito! Ok, ragazzi, va tutto bene. Continuiamo così. Delle piccole zone. Dobbiamo solo chiudere l'intera mappa. Andiamo ai lati. Andiamo ai lati. Qua ho visto che c'è questo infame. Io lo mangio un po' l'arcobaleno, tranquilli. Ecco, facciamo così. E ora andiamo dall'altro lato. Non facciamo casini. Facciamo vedere invece che comandiamo potentemente. Io devo fare il mio cavolo di cerchio dappertutto. Dai, che stiamo andando su un secondo! Se continuiamo così, possiamo vincere. Mamma mia! Se riesco a chiudere questo cerchio, cosa combiniamo? Ok, sarebbe veramente da uccidere il primo del server, se riusciamo. Abbiamo conquistato un bel po' di territorio. Le ho ucciso uno! Abbiamo ucciso uno. Se riusciamo ad eliminare Mark, niente e nessuno potrà batterci nella nostra scalata. Mark è morto! Ora niente e nessuno potrà batterci. È nostro! Chiuderemo l'intero cerchio e nessuno potrà battermi. Andiamo avanti, però stiamo attenti che questo vuole sicuramente trollarci. Ok. No, dobbiamo far fuori gli infami. Bam! Perfetto, perfetto ragazzi. È nostro. Ora dobbiamo andare però anche dagli altri lati. Chiuderemo fuori dal mio territorio! E le pappere comanderanno nuovamente queste terre selvagge! Sì, qua qua, Motherfrager! Questa è la mia vasca da bagno. Oh, stanno morendo tutti. Stanno perendo. Ragazzi, siamo ad un ottimo livello. Ora siamo già ad un territorio, ragazzi, che faranno fatica. Faranno veramente fatica. Abbattermi. Boom! Siamo attenti. Ora andiamo dall'altro lato. Andiamo dall'altro lato. Stiamo andando bene. Stiamo andando molto bene. Stiamo andando molto bene. Bam! Pennywise! Mi fai pena! Ragazzi, abbiamo quasi chiuso l'intero cerchio. Sono emozionatissimo. Non posso morire. Non posso permettermi. La sconfitta non è contemplata. Non provateci nemmeno. No! Il regno! Il regno! Oh! È perché ho avuto paura, ragazzi. Ho avuto paura di lasciarlo andare quando era il momento. Avremmo potuto vincere se ci fossimo impegnati. Dobbiamo solamente arrivare a metà regno. Poi il resto sarà una corsa pazza per la vittoria. Ma questo dobbiamo fare. Dobbiamo essere coraggiosi, ragazzi. Il coraggio ci mancava. Per tutte le papere empie. Io porterò noi, gabbiani, alla vittoria. State a guardare. State a guardare. State a guardare, figli miei. State a guardare, figli miei. Vedete? Questi sono i problemi. Se non avessi uno che mi mangia... Bam! Si è suicidato! Non ci credo. Perché sono morto? Perché? Perché sono morto? Stavo andando benissimo. Il cerchio! Questo è il momento. Questo è il momento. Porca trota! Cambio skin, ragazzi. È la skin che mi sta facendo perdere. Skin del clown. Georgie? Vieni qua, Georgie. Entra nel mio territorio, Georgie. Abbiamo le caramelle, i biscotti, passanato scuro, Georgie. Ok, ok, ok. C'è una bella bella, metta di nota. Boom! Georgie! Ragazzi, hanno paura del clown. Muah, 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 muah. Guarda! Si suicidano! Ma che il mio territorio esiste sbagliamento? Barabam, 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 barabam. Barabam, 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 barabam. Voglio far fuori solo questo. Non mangiatemi. Guarda qua come mi mangio. Ah, ma non ho notato, ma sono palloncini. Lol, che creepy. Dobbiamo prima di tutto fregare il tizio. Bam, così. Perfetto. Questa era una bella azzardata. Puoi fare così. Dobbiamo recuperare subito. Non ce ne sbatte niente. Andiamo avanti di molto. Andiamo avanti di molto. Se non troviamo tanti ostacoli. Ok, facciamo così. E ragazzi, torniamo qua. A posto. Abbiamo già fatto una buona roba. Ok? Ok. Ok, ora dovrei agire molto più indisturbato. A nessuno verrà in mente di attaccarmi tutta questa roba. A nessuno. E in questo modo, ragazzi, io potrò creare il mio succo. Potrò creare la mia zona attorno. La gente rimarrà spaventata dalla mole del mio regno. E si dovranno ritirare. Signori, si ritireranno. Oh. Se si ritireranno. Che volete fare? Che volete fare? Che volete fare? Vieni qua, piccolino bananino. Stupidino. Bravo, suicidati. Mio giovane padovano. Tu mangiami il regno. Io ti mangerò il tuo di regno. Veloce, 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 veloce. Bam. Ragazzi. Mi batte forte il cuore. Non mangiatemi ora. Non mangiatemi ora. Non mangiatemi ora. Fai. Fai. Sì. Ragazzi, guardate. 100%. 100%. Wow, con la tattica. Sì. Comando io qua. Nessuno può entrare. Il regno di Pennywise. Andiamo a completarlo tutto. 99. 99,6. 100% in 5 minuti. Ragazzi, lasciate un like per questa epica sfida finita bene. Io vi ringrazio per la visione. Se volete altri video del genere, lasciate un like e un commentino qui sotto. Vi vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.